Il centro di urno Alzheimer dell'ASP di Caltanissetta, così come quello di Gela, punto di riferimento per tanti pazienti e le loro famiglie, rischia di chiudere battenti. Il prossimo 31 dicembre scadranno infatti i contratti dei 30 operatori tra il capoluogo e la città del Golfo. Un'equipe multidisciplinare che in questi due anni ha assistito oltre 200 pazienti, offrendo loro servizi qualificati, oltre che un valido supporto psicologico alle famiglie, oggi preoccupate per il futuro del centro e i disagi che deriverebbero dall'interruzione del servizio. Ho visto che il comune di Caltanissetta si è attivato con i famosi progetti della 328. Naturalmente io ho dato un'occhiata a questi progetti, ho visto, e prevedono l'ingresso di 50 pazienti per tre ore al giorno, per tre volte alla settimana. Con figure professionali, devo dire, in numero notevolmente ridotto a quello che potrebbe essere definito un centro di urno vero e proprio. Mi sembra più un Alzheimer café, ma comunque che ben venga per carità, perché è a integrazione del centro di urno Alzheimer e non in sostituzione, sia chiaro. Però non si può chiamare centro di urno. Il centro di urno vero e proprio è quello che ha fatto l'ASP con tanti sacrifici, è quello che deve andare assolutamente avanti. Noi come familiari faremo pressioni alla Regione, già abbiamo scritto a tutti gli enti preposti della sanità della Regione e speriamo di avere al più presto risposta, perché altrimenti il 31 dicembre, il 1 gennaio forse ci troveranno, anzi no, forse il primo no, ma il 2 sì, ci troveranno a fare manifestazione affinché ci sia appunto questa continuazione di questo progetto veramente eccellente. Contratti Coco Pro, quelli stipulati con gli operatori che sinora si sono occupati del centro, che secondo quanto previsto dalla legge non possono essere più rinnovati, così come ci ha spiegato ai nostri microfoni il direttore sanitario Marcella Santino. La situazione è che il 31 dicembre 2016 scadono i contratti degli operatori, ma questo perché il Jobs Act prevede che non è più possibile fare contratti Coco Pro a quella data. Questa azienda si è già premonita di comunicare la situazione in Regione ed è in attesa di risposte. Devo dire che il quadro in questo momento appare confortante, perché l'assessore giusto Sabat ha detto che la Regione si sta muovendo per trovare soluzioni, per trovare risposte adeguate, perché centri così importanti non debbano chiudere o non debbano finire la propria attività. Quindi l'azienda dà la massima disponibilità, si attiene a quanto ha detto l'assessore ed è in attesa di queste nuove direttive.